Ciao amiche e ciao amici, lui ti lascia ma non del tutto, continua a cercarti, continua a volerti vedere. Come fare? Perché tutto questo? Beh, devi tenere presente che se lui ti lascia però continua a vederti significa che è un legame e comunque in lui è presente e che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava nella relazione ma lui cerca di, come dire, in qualche modo non perdere i contatti con te. Per cui hai buone possibilità di recuperare tranquillamente questa relazione se lo desideri. L'importante è non insistere, non fare pressing. In questi casi spesso si viene lasciata perché la persona si sentiva troppo oppressa si sentiva probabilmente troppo col fiato sul collo e allora cerca di allontanarsi e però poi quando si allontana sente la tua mancanza e allora ricerca un riavvicinamento. Quindi in queste situazioni è abbastanza facile recuperare la relazione se resti tranquilla, se non fai pressing e se lascia lui i suoi tempi, diciamo, per riavvicinarsi. Potrà riavvicinarsi in modo definitivo. Ci potrà volere magari un po' di tempo, potranno capitare delle cose però le probabilità che si recuperi in una relazione in modo naturale, senza forzare, senza fare nulla di che, sono abbastanza alte. Quindi in queste situazioni non devi demordere perché, diciamo, il recupero è quasi fisiologico. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con il tuo amico. Ciao!